Allora, siamo all'ultima partita di questa giornata, siamo in compagnia dei Tilger CME che vincono, anzi stravincono, per 7 a 1, che ridi a fare? Ah, 8 a 1, scusatemi, contro i Tilger Sanredo. Di Gennaro, ah, è De Gennaro. Vabbè, cambia una vocale, comunque stiamo là, capito? Va bene, comunque passa la parola alla mia collega. Ok, allora io la passo a questi ragazzi, li faccio presentare. Peniello Vincenzo. Luciano Di Gennaro. Luciano Di Gennaro. Francesco Giappaglia. Io sono il mister Pasquale Perna. Gian Domenico Jacullo. Ok, allora Jacullo sicuramente è autore di quanti gol? Allora Jacullo è autore di due gol, mentre Cozzolino Di Tri, uno De Gennaro, uno De Gennaro, Giappaglia. Due De Gennaro e un'altra Giappaglia. Ok, allora Luciano a chi li dedichiamo questi due gol? Allora, dedico uno alla famiglia e uno a una persona che due settimane fa scomparsa. Ok, va bene. Io uno a Pasquale Perna e uno alla mia ragazza. Bravo, molto romantico. Jacullo, tu quanti? Due, lo dedico alla famiglia e amici come sempre. Come sempre, per cambiare. Mister, un commento su questi ragazzi, come è andata la partita? Wow, fenomeni. Fenomeni. Dice il ragazzo che tu non l'hai vista proprio la partita, è vero? No, ho visto la partita, ma lì in mezzo al campo non l'ho visto proprio. Lui c'era, ma non l'ho visto. C'era tanti fenomeni, tipo nel Napoli, ci sono tanti fenomeni. Ci deve stare sempre un Pandev, sempre un Pandev. Tu sei il Pandev e vedi la situazione, Pandeva, allora facci tu un commento. Nei sei soldi, Pandev. No, niente, la partita subito si è messo 2-0. Ho capito. Sei poco scossumato, eh. Ho capito Luciano Di Gennaro, però... No, di, di. Eh, Gennaro. Presidente, vieni a capire. Presidente, voilà. Presidente, mi sono... Io stavo aspettando un commento. Presidente, mi sono due anni e cacci, Presidente. Presidente, il nome? Prego. Pietro Gaudino. Pietro Gaudino, ci fai un commento? Ha detto il ragazzo Pandev che lo devi fare tu. Io, eh, comunque, bella partita, non c'è nulla da dire. Lo vendiamo a pennello? Eh, però pennello lo possiamo pagare. Vabbè, diciamo a noi. Chi è che mi mette le mani nelle orecchie? Non va, Gennaro. No, no, no. Va bene, c'è... Invece ne facciamo la Little e vinciamo a noi. Ringraziamo come sempre lo sponsor. Vincete voi, tu dici. La Little, sì. La Little, sicuramente. Ok, Luciano, fai tu un saluto, per cortesia. Un saluto. Ti pure il microfono. Un saluto alla Maverick. E tutto i rientri. Ciao.